Hai il cuore! Secondo assalto in poco meno di un mese ad un negozio di elettronica di Fogliano della Chiana, Val di Chiana, Retina. Dopo il colpo dello scorso 21 marzo, infatti, i ladri nella notte tra mercoledì e giovedì attorno alle 4 sono nuovamente tornati in azione. Armati di piccone hanno fatto bene a due buchi per poter così entrare all'interno del negozio. Il primo tentativo è infatti andato a vuoto a causa di alcune tubature che hanno impedito il passaggio. I ladri hanno così tentato con un altro foro nella parte posteriore all'altezza del magazzino. Si presume sempre con gli stessi strumenti, con mazzolo e piccone, quindi poi alla fine è sempre la stessa banda. Una volta dentro i due malviventi, uno a volto coperto con un passamontagna, l'altro con un cappellino, hanno fatto razzia di materiale elettronico per un bottino di circa 50.000 euro, come nello scorso episodio. Bluetooth, qualche oggetto sempre tipo telecamerine, telecamere, eccetera, eccetera. Il colpo è stato messo a segno in pochi minuti a mettere in fuga i banditi il sistema d'allarme potenziato dopo l'ultimo assalto. Speriamo sicuramente che qualcuno intervenga e che sistemi chiaramente questa cosa perché noi siamo anche esausti. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri, al vaglio degli inquirenti, anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato il colpo. Praticamente ci sono questi rumori di fondo che sembrano persone che non siano del nostro paese. Nella stessa notte i ladri hanno fatto eruzione anche nel negozio di toilettatura che si trova nello stesso stabile. In questo caso hanno portato via i contanti dalla cassa. Mia figlia è arrivata qua e ha visto il cassetto della cassa sopra al tavolo.